musica weee bella tutti ragazzi e bentornati ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi purtroppo continuano i miei gravi problemi di voce sono già un paio di giorni che non ho la voce a pieno ma non per questo mi devo fermare a fare i video per voi alla peggio non mi deridete per la voce che ho beh ragazzi oggi non ho il tablet davanti a me sono qui con voi perché voglio parlarvi l'ho fatto tutti, lo faccio pure io dell'aggiornamento, dell'inizio del nuovo aggiornamento che Supercell ha deciso di rilasciare se ben ricordate non abbiamo ancora finito l'aggiornamento di marzo perché debbono ancora uscire i pipistrelli aggiornamento big, veramente enorme creato per onorare un anno di Clash Royale che ci ha dato veramente l'inimmaginabile grazie, grazie con questo nuovo aggiornamento ragazzi viene introdotta una nuova modalità anzi due nuove modalità basate entrambe su un tipo di gioco che bene conoscete conosciamo se seguite i miei video sapete benissimo quanto io lo adoro qui sto parlando delle due versus due le battaglie tra clan ragazzi due giocatori contro due giocatori lo sapete che si sfidano con due mazzi ma che cosa hanno messo quelli della Supercell come novità? hanno dato la possibilità di fare partite due versus due in modalità draft challenge questo vuol dire da quanto è stato trappelato più che altro da quanto ho capito io vedendo che c'è praticamente l'opzione draft che è quella quattro carte e quattro carte e come si dice lo possiamo giocare sia durante l'evento clan sia in amichevole e questo non è tutto anche perché sembrerebbe sia stata data la possibilità quindi sono state ascoltate le richieste dei giocatori di Clash Royale di poter fare sfide due versus due in amichevole questo vuol dire che quattro membri dello stesso clan potranno giocare contemporaneamente beh ragazzi è veramente una grande figata personalmente penso che le due v2 siano la modalità più bella più geniale che abbiano potuto regalarci gli sviluppatori di Supercell se poi pensiamo anche che possiamo giocarle non tanto in draft perché a me personalmente la draft non piace così tanto ma sapere di poterle giocare con altri due membri del nostro clan in amichevole quindi quattro persone contemporaneamente è veramente una cosa che ci deve far leccare i baffi e soprattutto ragazzi non è tutto qui Supercell ci dice che questo non è nient'altro che una sham un'esca che ci hanno mandato che è l'inizio del nuovo aggiornamento che si prospetta veramente veramente velo sugoso velo sugoso prima non abbiamo altre notizie ragazzi di nient'altro nessuna carta nessuna arena nuova nessun baule non sappiamo niente però è stato anche lasciato un gameplay ufficiale dove andiamo a vedere appunto questa nuova modalità per questo ragazzi prima di salutarci lo andiamo a vedere assieme siamo quindi qui nella nuova battaglia come vedete due contro due stanno scegliendo le carte in questo momento moschettiere e strega vengono suddivisi nelle due fazioni così come torre inferno e capanna dei goblin vediamo non ho ben capito ancora chi sceglie in che modo però hanno scelto loro adesso tocca a noi mago di ghiaccio o boia andiamo a vedere che cosa decideranno di prendere poi vediamo subito subito questo gameplay prima di capire bene un po' com'è strutturata tutta la cosa lasciamo passare ancora qualche secondo loro hanno scelto quindi è una scelta per uno bene siamo dozel chio chio contro banks e chip good luck già si danno della buona fortuna corriandoli per tutti grandi sorrisi e vediamo un pochettino come fanno aprono subito con un gigante royale una strega e una valchiria noi andiamo con una thompson sulla destra un razone giocato centrale per eliminare tutta quella roba lì e un moschettiere che continua indannatamente a picchiare sul gigante royale 2005 e 34 la loro torrinata 2120 parte il barile con boscaiolo e moschettiere la zap per eliminare gli scheletrini guardate il bosco ragazzi fa andare il moschettiere in modalità furia perché era dentro l'area e continua imperterito a sparare ragazzi un bellissimo attacco 4.20 tronco sulla princess per andare a tirarla via nettamente in vantaggio in questo momento di gioco un po' di tristezza generale per l'attacco aprono nell'alto con una strega normale vediamo un po' come si risponde boia sulla destra quartetto di barbari sulla sinistra un mago di ghiaccio di fianco alla strega per supportarla la vanchiria ovviamente davanti va a frullare i nostri barbaroni intanto altra strega di là sulla destra tomba centrale per andare a dare un pochettino di fastidio intanto il boia ragazzi sta entrando sulla sinistra vediamo se si ferma niente parile e orta giocate di là la zappa bellissima tira via l'orta gigante royal che va a sparare sulla tomba andiamo a mettere il tris di sgherri che eliminano il suo boscaiolo riusciamo anche a tirare giù la torre di di destra quella con più vita ragazzi e gli sgherrini vanno a terminare quasi insieme al moschettiere in questo momento va giù anche la loro torre di sinistra ragazzi fortissime queste combo che abbiamo appena visto siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco doppia apertura con due boia con due boia ragazzi pronti a triturare manca fossero lo chef Tony ma il razone mi va a tirare via gigante royal e orda di scheletri con una torre inferno cerchiamo di difenderci di nuovo un razone vedo due giganti royal e dei goblin che stanno minacciando la nostra torre ma il boscaiolo ragazzi colpisce con una potenza in odita tira giù senza problemi prince smago di ghiaccio e strega centrale la pure del boscaiolo purtroppo non prende nessuna delle nostre truppe andiamo a fulminare tutta quella roba lì e a mettere un altro boia ancora razone per loro ragazzi siamo quasi alla fine 10 secondi quartetto di barbari barile e boia stanno avanzando loro aprono con una gang sul retro ma non ha molta possibilità di vittoria e come vedete ragazzi wow si conclude in due torre a zero la partita beh che dire ragazzi devo capire bene non so se voi avete capito se cioè quando si seleziona la carta il mazzo è comune per tutti e due oppure sono 4 carte e 4 carte non riesco ancora a capire quindi 8 carte comuni che formano il deck io credo che sia un deck comune per tutti e due ma ancora devo capirci bene qualcosa beh ragazzi io spero che questo breve con un ciso anche se non ce la faccio più video sull'aggiornamento nuovo di clash royale vi sia piaciuto vi ricordo se la trovo non la trovo eccola qua di attivare la campanella ragazzi sul mio canale youtube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico me la tengo in mano e vado a finire il video con la campanella noi ci vediamo domani al prossimo video ciao